Presidente Soccurro, sono tempi anche complicati per quanto riguarda Ancicarabria, anche se lei sta cercando di rimettere un po' di ordine? Beh, intanto certo riorganizzare ed essere anche interlocutori positivi e propositivi dei nostri sindaci. I sindaci che sono veramente in prima linea, quelle che sono le problematiche di una regione direi meravigliosa ma che naturalmente ha anche la sua bella da fare. Stiamo lavorando continuamente senza fermarci, ci stiamo come dicevo anche riorganizzando, ripartiranno le commissioni proprio per essere pronti a dare delle risposte ai sindaci ma soprattutto ai territori a 360 gradi. Negli anni ci si è resi conto come le province fossero indispensabili per dare delle risposte ai territori ma le province piene di deleghe, di funzioni e quindi anche di risorse quindi stiamo lavorando anche lì su più livelli interloquendo anche con il governo nazionale affinché avvenga la riforma che possa far ritornare con le province nella loro centralità di un tempo quindi con le deleghe, con le risorse e soprattutto con quella potenzialità enorme che ha ma che oggi non riesce a sfruttare quindi non riesce a dare delle risposte reali se non in termini di viabilità edilizia scolastica e ambiente. Un risveglio del turismo invernale in Sila e anche a San Giovanni in Fiore, lo vogliamo parlare? Beh, con l'arrivo dei primi fiocchi di neve parte quella che è la stagione invernale, una stagione legata non solo al mondo scistico ma a tutto ciò che attorno si crea. Parliamo della Sila, parliamo di Lorica, parliamo di Camigliatello ma parliamo di un indotto fondamentale che a parte con gli appassionati e gli sportivi può in qualche modo interessare tutte le famiglie, giovani, ragazzi. Un turismo che è quello montano che vorremmo funzionasse tutti i giorni dell'anno ed è per questo che stiamo lavorando anche come provincia insieme ai comuni, insieme alle associazioni, a Darsa che a Ferrovie affinché possa essere una leva economica fondamentale per la nostra economia e quindi il turismo.